E' stato un voto brufo Vai, eh, manda uno. Lo premo intanto no? Vabbè, intanto non devi partire subito, che si, vai, non ha fatto il conto alla rovescia, siamo a 6 secondi, non so perché. Questo racca davanti al cazzo, è evidente che hai scottato, però, non vorrei che... No, niente però. No, si vede che hai scottato? Però stai racca davanti al cazzo. Però spostati, questa era una volta, vai di là. No, è da qua la telecamera, la vuoi. Vai a vedere. Stai scritto. No, ma va bene. Vai a vedere. È scott. Sto caricando. Sì, 95. No, recupera, eh. Recupera quanto vuoi. Sì. 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 Questa è il 98, ti trovi? Si Quanta pure tu 10, 20, 30, 40, 40 sono 80 95, 98 Ma stiamo a quattro minuto manco, quindi... ... 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 santo anna rem siamo a 6 minuti e trenta può mettere pure un'ora vabbè mo mettiamo direttamente per esempio 20 e 20 lo facciamo anche vedere capito? ma non fare il power cazzo con 55 non lo fare proprio scarico tutto ma tanto li rimettiamo non fa niente siamo a 7 e 20 vuoi farti tra 10 ore non lo fare sto dicendo leva eh babbo eh babbo piano vasca lì mamma te lo vuoi tirare di là? eh buona idea va levalo dal cazzo niente siamo a 8 e 25 ma voglio farlo recupero un attimo un po' lo carica devi mettere il 20 due venti a destra due venti a sinistra il 3 kg non lo voglio pigliare sono scesa troppo secondo me sono scesa troppo una doppia tavola un po' di timpato l'ho preso dietro là me li devo caricare da sola un po' di timpato Siamo a 10 minuti, quindi rilasso da un attimo. Siamo a 10 minuti, quindi rilasso da un attimo. Siamo a 11.10, fai 9 minuti. Concentrati e quando senti che devi andare vai. Siamo a 10 minuti. 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 10 minuti. Siamo a 10 minuti. Siamo a 10 minuti. Risolta. 5 minuti. Siamo a 10 minuti. Anni facetti il안 ballerino. ... 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